In Trentino sorge e si sviluppa un movimento di resistenza, un movimento di resistenza innanzitutto politico e poi militare, ma politico che parte soprattutto per l'iniziativa di Gian Antonio Manci che è il primo presidente del primo comitato di liberazione nazionale di Trento, che ha all'inizio solo una funzione di organizzazione della resistenza, innanzitutto politica e poi nei piani anche militare. È chiaro che la resistenza in Trentino però si trova a dover fare i conti con una situazione del tutto particolare in una regione di confine da poco legata all'Italia, erano passati poco più di vent'anni dalla fine della prima guerra mondiale e dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia. Il fascismo aveva plasmato chiaramente anche i trentini e forse proprio l'8 settembre, 25 luglio, avevano un po' rotto anche quella che è stata l'adesione dei trentini al regime fascista. È una regione, un territorio particolare in cui ci sono sentimenti di nostalgia, quindi anche verso il passato asburgico dei trentini e i tedeschi che occupano questa provincia fanno proprio questi sentimenti, sentimenti di una piccola patria e quindi di separazione, isolamento del trentino rispetto al contesto nazionale. Attuano poi i tedeschi sempre, esclusivamente, se così si può dire, per scopi militari una politica pragmatica attenta a non terrorizzare le popolazioni civili come avverrà invece in altri contesti territoriali. Quindi si fanno giungere beni di prima necessità, si mantengono i carabinieri come forza d'ordine pubblico, si esclude il partito nazionale fascista, repubblicano, dai territori del Trentino, che diventa di fatto parte integrante di una zona d'operazione, quella delle prealpi, che viene staccata dal tessuto nazionale assieme alle province di Belluno e Bolzano. Quindi è una situazione del tutto particolare in cui gli interessi tedeschi sono assolutamente primari e quindi la resistenza stenta a far breccia nel cuore dei trentini. Per i tedeschi è importante mantenere la linea del Brennero e quindi concentreranno forze di polizia e militari consistenti lungo questa fascia che collega di fatto la Germania con l'esercito tedesco impegnato nella parte meridionale dell'Italia. La resistenza trentina è quindi una resistenza per lo più periferica, che si concentra nelle aree territoriali a cavallo con le altre province, penso al Bellunese piuttosto che al Vicentino o al Bresciano. Una resistenza costretta dalle modalità della politica e dell'occupazione tedesca a operare quindi in quei territori, a concentrarsi in quelle fasce alpine, montane. È una resistenza che, come il resto della resistenza italiana, subisce o attraversa diverse fasi del suo sviluppo. È una resistenza che purtroppo subisce i colpi implacabili, diciamo, delle autorità d'occupazione tedesca, che vogliono mantenere assolutamente pulita la zona dalla presenza partigiana. Gli episodi più importanti, più esemplari di questa politica repressiva chirurgica, oserei dire, sono l'eccidio del 28 giugno 1944, che decapita la guida politica della resistenza trentina, e altri momenti particolari, soprattutto nell'estate del 44, che avvengono sulle montagne, ad esempio, del Vicentino, dove ad esempio a Malgazzonta un reparto di partigiani è sconfitto e i suoi elementi vengono immediatamente fucilati. È quindi una resistenza, come è stato usato, di confine, che attraversa varie fasi critiche. La fine della guerra vedrà anche i pantigiani trentini intervenire per salvare il salvabile dalla ritirata tedesca, e uno degli episodi più noti avviene proprio in una zona di confine, che è quella del Basso Sarca, dove c'era stato, fra il resto, uno dei principali focolai della resistenza trentina. A Riva del Garda, la battaglia di Riva del Garda, che si svolge alla fine di aprile del 45, è uno degli episodi più importanti della resistenza. Avviene chiaramente quando però la guerra sta per concludersi. Ufficialmente la guerra in Italia si conclude il 2 maggio con la resa delle forze nazifasciste nella penisola, ma la guerra non è finita né in Italia né tantomeno nel resto d'Europa, dove finirà tra l'8 e il 9 maggio successivo. E quindi la guerra in Italia, appunto, e in Trentino in particolare, porta con sé degli strascichi, degli strascichi, ahimè, drammatici. Perché se fino a quel momento, fino al maggio del 45, la repressione nazista aveva colpito i gangli organizzativi e politici e militari della resistenza senza inferire sulla popolazione civile, alla fine della guerra saltata la catena di comando che teneva uniti i reparti tedeschi occupanti, anche per la presenza di unità di soldati che provenivano dal fronte italiano e quindi da altre realtà, da altre situazioni, si trova a dover affrontare un momento particolarmente tragico, non tanto lungo la via principale di ritirata, quella del Brennero, ma nelle vie laterali, possiamo chiamarle così. Ad esempio, in Val di Fiemme, tra la fine di aprile, ma soprattutto i primi di maggio del 45, quando tra il 3 e il 4 maggio la guerra formalmente è finita, dei reparti tedeschi che si stanno ritirando inferiscono sulle popolazioni di Ziano, di Molina e Castello di Fiemme di Stramentizzo. Ecco, solo alla fine della guerra si conteranno oltre 100 vittime tra la popolazione civile e i partigiani, mentre appunto, come ripeto, prima la politica repressiva nazista si era limitata a scardinare il movimento di resistenza con operazioni mirate chirurgiche, alla fine della guerra questo controllo salta e l'abitudine anche alla violenza, alla brutalità delle truppe naziste che si era sperimentata, che aveva avuto luogo negli anni e nei mesi precedenti, salta e si abbatte anche sulla comunità trentina con effetti drammatici.